Ragazzi, a cosa stiamo assistendo? Un altro colpo del Milan in questa sessione di mercato. Probabilmente l'ultimo grande colpo, ma che colpo? A mio parere un buonissimo acquisto, perché Musa, ormai ex giocatore del Valencia, sarà un nuovo giocatore del Milan. Giocatore che è stato desiderato dal Milan ormai da un bel po' di mesi, un bel po' di giorni, e che finalmente sta per arrivare quasi l'ufficialità di questo nuovo acquisto. Il giocatore sta per partire da Valencia per arrivare a Milano, per svolgere le visite mediche e per firmare con il suo nuovo club. Ebbene, oggi andremo a parlare, come sempre, delle cifre con cui Musa sbarca a Milano, delle sue caratteristiche fisiche e tecniche e delle statistiche di quest'anno di Musa, per poi alla fine andare a dare un voto qualità-prezzo. Allora, Musa secondo me è grandissimo acquisto, di fatti l'ho fatto i complimenti, l'ho fatto lo scorso video al Milan, ma secondo me bisogna rifarli, perché c'è gente che all'inizio del colpo del mercato è scesa dal carro della dirigenza del Milan per andare a dire Cardinale out e Maldini inna, e in questo momento tutta la gente di Milano, tutti i milanisti, sono super contenti. C'è stato subito un cambio d'idea, e a mio parere Cardinale ha fatto subito un buon lavoro, un ottimo lavoro questa sessione di mercato, perché ha venduto Tonali ad un prezzo spropositato, si è andato ad acquistare sei giocatori con i soldi di Tonali, e quindi secondo me molto molto bene, benissimo questa sessione di mercato. C'è chi dice che il Milan può saluttare per lo scudetto? Forse, perché sicuramente ha una rosa tra le più forti, e può andare bene in Champions, secondo me. Mosà sbarca a Milano per 20 milioni di euro bonus compresi, quindi una cifra tutto sommata abbastanza elevata, però il giocatore vi assicuro che c'è, è molto molto buono, è super valido, ragazzi è veramente un bel giocatore, lo conoscevo già, ho visto qualche partita del Valencia quest'anno, ed è un giocatore veramente veramente forte. Le sue caratteristiche fisiche, non è un colosso come il classico centrocampista mediano, non è appunto uno con un fisico grossissimo, va bene, però è quel classico giocatore agile, veloce, tecnico, visione di gioco, ragazzi, secondo me, nel calcio moderno non esistono molti giocatori con la sua visione di gioco, l'ho visto, vede azioni che probabilmente neanche noi dalla televisione possiamo vedere, infila certe palle veramente incredibili. Quindi, appunto, le sue caratteristiche sono tecnica, velocità, agilità, visione di gioco, non ha il particolare vizio del gol che non guasta mai per un centrocampista, di fatti, per esempio, in ottica fantacalcio, non è il miglior profilo nuovo da andare a prendere, direrei più su Love to Sheik oppure su Reinders. Di fatti, lui ha totalizzato 33 partite col Valencia facendo 0 gol e 2 assist, però a livello realizzativo non è niente di che. Appunto, è una mezzala che, almeno a Valencia, ha fatto vedere che fa un ottimo lavoro di recupero palla, fa iniziare molto bene il contropiede, ha una manovra di gioco, un possesso palla molto, molto buono, nel senso non perde mai palla, però a livello realizzativo non è quel classico giocatore che ti porta per mano tutta la stagione e ti dice, moh, te lo faccio io il gol partita. È un giocatore che ogni partita ti fa bene, è costante, fa partire le azioni, è un giocatore molto, molto sicuro, è veramente un grandissimo colpo, secondo me. Anche perché il Milan, in questo momento, si andrà a modificare per quello che aveva prima, perché tu prima al centrocampo c'avevi Rade e Krunic, ricordiamo che quest'anno il Milan giocherà col 4-3-3, e che al centrocampo, prima dell'arrivo di Musa, avevi Reinders, Loftusik e Krunic, o meglio, Krunic in mediano e Reinders spostato a destra. In questo momento tu hai un centrocampo totalmente diverso, perché tu avrai Reinders in mediano, Loftusik in mezzala di sinistra, e Musa a mezzala di destra. E secondo me, a mio parere, a mio modesto parere, è uno dei centrocampi a mani basse, lo dico da romanista, più forte d'Italia. Proprio lo dico con tutta onestà. Ha giocato anche la Supercoppa di Spagna, e quindi non ha vinto niente ancora nella sua carriera, ma sicuramente è un giocatore molto, molto forte, che al Milan sicuramente servirà, servirà, ed è un grandissimo colpo, secondo me. Quindi ragazzi, vi vado solo a leggere la nuova formazione che avrà in Milan. Mignano ovviamente in porta. Ciao e Tomori, due difensori centrali. Ricordiamo il primo, che ha fatto una stagione straordinaria, e secondo me si prenderà il posto titolare, e non si schioderà da lì. Ciao, Kier ovviamente sarà in panchina, perché ha una certa età. Terzino sinistro, ovviamente, Teo Hernandez, terzino destro Calabria. Ora, la formazione del Milan è tanta roba, perché ha preso cinque titolari, ora ve li andrò a leggere. Io onestamente, l'anno scorso a Milan, a me non piaceva, però ovvio che se prendi sei titolari, tra cui Musa, Okafor, Ciuquese, Pulisic, Loftusic, Reinders, hai fatto una formazione totalmente diversa, e cambi totalmente l'assetto tecnico e tattico della squadra. L'unica cosa che andrà a prendere, appunto, è un terzino destro. Calabria, secondo me, non dà garanzie fisiche, e se sta bene è un buonissimo giocatore, che può disputare la Champions tranquillamente, e può giocare con questi undici. Però, il fatto è che, quando non sta bene, tu non hai garanzie, quindi andrà a prendere un singo del Torino, che magari vai a pagare 15-20 milioni, ma che però hai un ottimo sostituto. La SIGA e il Milan potrebbero lottare per grandi obiettivi. Florenzi, è vero che ce l'ha in panchina, ma non basta per coprire il ruolo di Calabria, perché Florenzi è più rotto di Calabria. Si rompe sempre Florenzi, che ha comunque una certa età, 33 anni. Ovviamente, il centrocampo a tre sarà formato, come ho detto prima, da Reinders, mediano, secondo me, di assoluto valore, box to box, è veramente un gran giocatore fisico, ma veramente agile, e secondo me farà anche qualche gol. Love to Sheik, che secondo me al centrocampo sarà il più forte, giocatore potente, a fantacalcio, da prendere, proprio da buttarsi dentro, Love to Sheik, è veramente un bel giocatore, e a destra Musa, che anche quello è un ottimo giocatore, magari a livello realizzativo, non ti garantisce quello che ti garantisce Love to Sheik, ma ti farà differenza, secondo me, Musa nel campionato italiano. E qua arriva poi la parte forte, perché l'attacca a tre, tu c'hai, Leao a sinistra, Giroud centrale, Barra Okafor, e a destra Ciucuese. Che succede? Che in panchina c'è anche il signor Pulisic, che non è venuto a Milano per guardarsi le partite, è venuto a giocare, quindi può andare a destra, può andare a sinistra, può andare a centrale, Pulisic ha in un jolly, ha una vasta verità di scelta, e che se Pulisic lo fa entrare l'ultima mezz'ora, 40 minuti, ti spacca in due la partita, anche lui, secondo me, da prendere al fantacalcio. Quindi il Milan ha fatto una campagna di acquisti, finora da, da 10, secondo me, perché ha fatto tutto quello che doveva fare, dopo la cessione di Tonali. Difatti i miei dubbi sulla cessione di Tonali, erano solo uno, no il prezzo era come, andare a rinvestire i soldi che hai preso da Tonali. Loro l'hanno fatto, perché hanno preso Musa a 20 milioni, Loftusic a 20 milioni, Reanders a 20 milioni, Luca Romero a 0, Okafor a 15 milioni, Ciuque S a 30 milioni, hanno speso più di quello che hanno incassato con Tonali. Quindi, si dimostrano che hanno un progetto in testa, e che comunque, alla squadra del Milan, ci tengono. In questo momento il Milan ha una delle rose più forti della Serie A, ma su una cosa mi volevo soffermare, che il Milan, per i giocatori che sta prendendo, perché questo è un video su Musa, però su Musa ne abbiamo parlato 7-8 minuti, 5-6 minuti e possono passare, perché è un giocatore che dovrà dimostrare sul campo, ma parliamo di una cosa, parliamo del fatto che, il Milan sta costruendo, una squadra, che va a 100 all'ora, ma non solo di velocità, di scatti lunghi, ma di scambi tra di loro, loro, secondo me, faranno un possesso palla, veramente a un tocco, perché hanno giocatori, agili, veloci, piccoletti, baricentro basso, quindi, non li prendi mai, sono delle schegge, in attacco tu hai Ciucuese, Okafor, Leao, che non lo prendi mai, al centrocampo tu hai questo Musa, che ragazzi è velocissimo, hai Reinders, che è box-to-box, hai Loftusic, che ha una potenza fisica, incredibile, hai Pulisic, che se lo metti, secondo me, è uno dei giocatori più determinanti in Serie A, ragazzi, secondo me il Milan, quest'anno andrà a 100 all'ora, poi magari floppa totalmente, ma, in questo momento, l'obiettivo minimo del Milan, è lottare, perlomeno per lo scudetto, e fare bene in Champions League, veramente, giocatori, anche perché sono tutti giovani, ragazzi, Ciucuese, 20, quant'è, 25 anni, Okafor, 23 anni, Leao, stessi anni di Ciucuese, ragazzi, sono giocatori under 25, e quindi, secondo me, sono super freschi, e faranno molto molto bene, per quanto riguarda, chiudiamo il capitolo Musa, giocatore che a me piace tantissimo, voto, qualità prezzo, a Musa, gli do 8, barra 8,5, perché la qualità del giocatore, non si può discutere, però l'hai presa tanto, ma questo non, non, non fa del male appunto all'operazione, quindi molto molto bene, un altro colpaccio del Milan, ormai sta diventando Milan TV, questo canale, perché il Milan sta prendendo tutti, ormai credo che di calcio mercato, questo sia il quinto video, che faccio del Milan, quattro sicuro, quinto, quindi veramente il Milan, sta facendo, a mani basse, palesemente, il miglior mercato d'Italia, detto questo, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, a questo contenuto, e la cosa più importante, dite la vostra nei commenti, soprattutto voi, tifosi milanisti, e noi, come sempre, ci vediamo a un prossimo video.